Il paradigma dello stupro In natura però non è l'unico per fortuna Esiste un altro paradigma in cui i corpi non si scambiano energia Ma si scambiano quello che nel gergo dei fisici si chiama fase Cioè il ritmo è quando uno balla Due ballerini che ballano non si esercitano la forza l'uno con la tranne che siano cattivi ballerini In cui uno dei ballerini prende l'altro con la forza e lo trascita a presa E questo è cattivo ballo Nel buon ballo invece non c'è un'applicazione di forza l'uno con l'altro I due accordano, sintonizzano i loro movimenti E in questo modo emerge qualcosa di significativo Ecco E in questo modo E in questo modo